Abbiamo presentato in questa sede il primo edificio scolastico certificato Casa Clima School con protocollo R. Si tratta di un edificio scolastico che accoglie una scuola media e una scuola materna per il quale abbiamo realizzato un efficientemente energetico dell'involucro e un rifacimento completo della centrale termica. In più abbiamo aggiunto una ventilazione meccanica controllata che prima non era presente e abbiamo realizzato tutto quanto l'intervento all'interno del periodo di chiusura della scuola da giugno a settembre. L'intervento è stato complesso anche per questo tipo di tempistica e l'abbiamo realizzato certificandolo in Casa Clima School. Il protocollo prevede l'attenimento di una serie di valori che vanno oltre la mera certificazione energetica ma riguarda aspetti anche per quello che riguarda la qualità dell'aria, l'illuminazione e l'acustica degli ambienti interni che vengono poi verificati con delle prove sul campo come il blower door e come comunque l'analisi acustica post intervento. Questo particolare intervento su una scuola ci ha permesso di lavorare e di ottimizzare un edificio che è fondamentale per quello che riguarda il futuro dei bambini perché gli permetterà di vivere in una scuola migliore con una curva di apprendimento più elevata e una qualità del loro iter scolastico che speriamo sia all'altezza delle loro aspettative per il futuro.